Non ce l'ha fatta Alessandro Valletta, il 22enne di Pescaglia che dieci giorni fa era rimasto ferito in maniera gravissima mentre stava seguendo da spettatore il rally del ciocco, è morto all'ospedale di Cisanello. La tragedia è accaduta nel pomeriggio al nosocomio Pisano. Il ragazzo che stava seguendo la prova speciale di Renaio da un poggio alto 4 metri e distante almeno 10 dalla strada era stato colpito in pieno dalla ruota che si era staccata da un'auto in gara, la Peugeot 208 GT dell'equipaggio Gangi Ferrari. Subito soccorso dall'ambulanza in servizio sulla prova speciale era stato poi trasferito al nosocomio di Pisa con l'elicottero del 118. In ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvarlo sottoponendolo anche a un delicato intervento. Purtroppo il 22enne è deceduto lasciando nel dolore la famiglia. Su quanto accaduto sulla base anche dei rilievi dei carabinieri, il sostituto procuratore della Repubblica Paola Rizzo aveva già aperto un fascicolo.